Devi gettare una carta a picche e un altro sette, a meno che non hai un otto, allora puoi cambiare seme. Allora è per questo che lo chiamano gli otto matti, giusto? Mammina, quando è che torni? Per le due tesoro, ma spero che tu starai già dormendo. Ci pensiamo noi a lei, stai tranquilla. Che fai, esci? Sì, torno più o meno alle due, poi faccio l'ultimo turno. Puoi dirmi dove vuoi? No, non posso. Bene. Fala brava, Nicoletta. Promessa. Bene.